più Europa e spero che si possa presto arrivare in seno all'Unione a quella riforma sulla protezione dei dati personali che è stata avviata nel 2012 dalla Commissione e sulla quale appunto proprio in queste ore prenderà il via la trattativa con il Parlamento europeo che mira appunto a stabilire un unico insieme di norme per tutti i 28 Stati dell'Unione europea e anche a vincolare vincolare alle nostre regole europee le società che hanno sede fuori fuori del continente quindi c'è bisogno di un'Europa che anche in questo settore non smarrisca la propria identità si ricordi e rimanga fedele a quei valori a quei diritti per i quali è stata e continua a essere un riferimento in tutto il mondo quindi l'Europa che anche di fronte oggi la minaccia terroristica ecco c'è da augurarsi che l'Europa sappia far valere i diritti della sicurezza che sono fondamentale senza senza snaturarsi senza intaccare la sfera dei diritti dei propri cittadini perché sarebbe una sconfitta per noi per la nostra civiltà se appunto i gruppi terroristici riuscissero a stravolgere con la loro azione violenta i nostri principi di civiltà grazie a tutti